allora facciamo un piccolo giro delle mie rose ma esattamente non mi ricordo tutti i nomi questa è diventata un albero qui possiamo vedere labbro di limu labbro di arance labbro di limoni questa è un'altra cosa che in questo momento giusto una pastiglia ce ne sta poi ci sta questo in miniatura questa è in pelatrice questa è stata acquistata dopo aver visto un modello a roma ai giardini di roma a roseto di roma questa sta crescendo questa è magia nera questa me la ricordo rosa pagliaccio qui c'è un'altra che sta in basso poi ci si sa questa che possiamo vedere che questa ancora c'è il cartello e questo è tutto